buongiorno questa è la rassegna stampa in breve di video 33 oggi venerdì 10 giugno cielo sereno su tutto il territorio provinciale andiamo a vedere con l'aiuto della grafica un'immagine che ci arriva dall'abitato di scese sopra bressanone questa immagine intorno alle 5 e 30 di questa mattina come potete vedere la suggestiva immagine ci dà il fiume di nuvole che invade la valle isarco le nuvole che però presto lasceranno spazio a una giornata molto soleggiata andiamo a vedere ora le aperture dei quotidiani locali che troviamo in edicola iniziamo dall'alto adige aeroporto la guida al vuoto domenica urne aperte dalle 7 alle 22 gli ultimi appelli e poi nella fotonotizia la cronaca sette querce masso piomba sulla strada provinciale tragedia sfiorata poi negli interni ecco l'agenda del sindaco caramaschi presentato il programma e poi nel taglio basso una spiacevole notizia che arriva dalla val di sarco violenza sulle donne 121 i casi ce ne sono 24 nelle strutture protette il fenomeno è in crescita i dati allarmanti né a pagina 33 poi passiamo al corriere dell'alto adige caramaschi priorità ai rioni definito il programma fondi incontro con compacer e rifiuti sconti nel 2017 poi nell'agenda del sindaco c'è un lido a firmian e l'azienda servizi sociali sarà riorganizzata anche qui nella fotonotizia il masso piombato sulla strada a sette querce per fortuna nessun incidente e poi negli interni dalle cronache un carabiniere picchia la moglie il giudice non si avvicini alla casa e nel taglio basso l'economia lavoro segnali positivi più occupati pan l'export trainante 600 nuovi posti percorrerati il settore edile respira e poi nel dolomitten sul dolomitten in apertura la grande generosità dei su tirolesi con l'azione benefica su tirol hilft raccolti 816 mila euro e anche qui nella fotonotizia gli ottimi dati che arrivano per l'occupazione in alto adige nel soprattutto anche nel primo trimestre 2016 e i settori trainanti sono turismo e appunto industria grazie all'export poi come ogni venerdì in edicola anche la sutiroler wirtschaft seitung qui invece l'apertura si parla in apertura si parla dei recenti interventi anche al festival dell'economia di trento del governatore della banca d'italia ignazio visco che più volte ha indicato la strada per uscire dalla crisi anche al governo forse però dovrebbe parlare anche dei problemi della banca che dirige secondo l'editoriale e poi chiudiamo con la tagstitung che apre sì con il referendum sull'aeroporto ma in maniera curiosa ovvero oltre che spaccare partiti politici e consigli comunali il voto spacca in qualche maniera anche le coppie sposate il caso del sindaco di cortina sulla strada del vino manfred mayer che si è detto favorevole mentre sua moglie ha già dichiarato che voterà no bene con questo ho terminato vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro una buona giornata grazie a tutti